Oh, oh, 2D! Ora sei... 3D! Ehm... Non funziona se non ridi. Ok, questo è bellissimo navolativo. Tutto ciò che esce alla tua bocca è stupido. Ehm... Mardok? Eh, non me ne pento. Ehm... Sono ancora vivo. Bastardo. Ho una macchina. E ho Stuart Pot. Ehm... Dove ho sbagliato? Ma Nudol, i tuoi capelli assumivano volta quella ragazza del film... Ring? Cinque minuti dopo. Quella Sadoka mi ha veramente spaventato. Sadako! Eh, giusto. Sadako mi ha spaventato. Beh, a me non fai meno paura ora. Ah, 2D! Perché Nudol ha una ciotola in testa? Ah, gli ho fatto un po' tagliare i capelli. Bellissimo, vero? Sì, bello come una merda. Dammi quelle cavole di forbici, lo giusterò io. E togliere quella ciotola dalla testa. Niente, finisce qui il mio secondo doppiaggio perché sì. Ehm... Niente. Buona giornata! Sì. 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 Grazie.